Lo scultore De Angelis è un filosofo di altri tempi che può insegnare molto al presente degli isolani. Portatore di calma, pazienza e riflessione, sembra che viva in un presente metafisico e soprassensibile. Cosa ti ha colpito di più della sua personalità? Rispondere a una domanda del genere di sicuro non è assolutamente semplice perché Giovanni De Angelis ha mille sfaccettature, è uno scultore di fama internazionale, qualunque cosa si possa dire di lui potrebbe risultare limitante. Quello che ho da dire, quello che mi ha colpito, innanzitutto c'è stata intervistarlo sin da subito una sintonia di temi, di emozioni enorme, cioè sin da subito è stato facile veramente da questo punto di vista parlare col maestro. In De Angelis c'è una tensione artistica costante, in lui è una sorta di custode di questa eterna ricerca come dirà lui nel documentario, una ricerca che poi è la ricerca artistica forse che può essere generalizzata alla gran parte degli artisti, comunque di chi si dice tale. Una ricerca filosofica ma una ricerca della bellezza, una ricerca di un qualcosa, di un sentiero per l'uomo che può essere un sentiero da percorrere, un significato. Poi c'è l'aspetto che mi ha colpito di più, l'aspetto che mi ha colpito di più è la parte che riguarda la manualità, se poi vogliamo dire, non ho altro termine per definirla, lui fa lo scultore, quindi ha a che fare veramente con la pietra e lo fa quotidianamente, lui tocca la pietra, ogni giorno è la tempra e imprime la sua anima all'interno della pietra e quindi attraverso questo gesto ripetitivo del toccare la pietra, lui pone in essere una sorta di atto proprio religioso, infatti lui rappresenta nel nostro documentario, vuole rappresentare la parte più spirituale, più metafisica, più meditativa. Raffaele Buono è il testimone di importanti eventi storici come la partecipazione al film Cleopatra con Liz Taylor, ma ha vissuto anche il dramma del fascismo, ne ha documentato il clima di terrore e violenza. Quanto è importante salvaguardare la memoria storica? Innanzitutto Raffaele Buono è mio nonno, per chi non lo sapesse, è una persona molto profonda, lui è stato un marittimo prima e contadino poi. Lo abbiamo inserito all'interno del documentario perché sostanzialmente lui ci ha dato la possibilità di raccontare un qualcosa che solitamente forse non viene abbastanza raccontato, nel senso il fascismo vissuto da un isolano. Questa è una cosa molto particolare perché noi siamo abituati, forse non so per quale ragione, comunque siamo forse abituati a pensare al fascismo come un fenomeno abbastanza cittadino, un po' lontano dalla realtà isolana e isolata dell'isola. In realtà lui ci ha offerto proprio questo, ci ha offerto di fare una sorta di ricostruzione storica, per questo è importante, era importante salvaguardare la memoria storica di questo, la ricostruzione di ciò che è stato il fascismo vissuto da un isolano. Quindi questo è stato l'apporto fondamentale del nonno. Sandro Petti è stato un vero uragano di idee e innovazioni, ha valorizzato l'isola portando molti artisti di fama internazionale. Secondo te oggi ad Ischia ci sono personalità interessanti e intraprendenti che possano valorizzare l'isola? Adri, vuoi parlare tu di Sandro? Sandro Petti è un'altra persona che abbiamo scelto di inserire perché rappresenta quella che è l'altra anima del passato dell'isola, nel senso l'anima anche un po' più goliardica, un po' più festaiola, ma nel senso buono del termine perché comunque lui ha avuto la fortuna di invitare personaggi insomma quelli che erano un po' del jet set dell'epoca. Anche il suo locale appunto che ha avuto qui al Castello Ragonese era una fuscina di eventi, di serate anche di diciamo di grande sfaccettature, di molto variegate, non erano solo quelle che si può pensare oggi la discoteca oppure l'evento mondano. A fine serata ci raccontava che poi molto spesso invitava questi artisti a dormire a casa sua, che si trovava un po' più in alto qui al Castello. Quindi era un personaggio, è un personaggio tutt'oggi, nonostante i suoi 90 e passa anni, molto molto creativo, molto che anzi ci siamo sorpresi perché noi volevamo raccontare quella che era un po' il trascorso anche isolano insomma, visto anche dagli occhi di una persona esterna perché comunque Sandro è una persona, è un romano sostanzialmente trapiantato ad Ischia. Lui un po' si è rifiutato di, nonostante appunto questi ricordi, è una persona che vuole guardare al futuro e quindi è proprio questo l'aspetto interessante nel senso che nonostante appunto tutto il suo trascorso, il bagaglio di esperienze che ha, è una persona molto ancora proiettata nel futuro. Quindi non si vuole guardare indietro, vuole guardare avanti ed è quello anche un aspetto che noi preme raccontare, cioè quello un po' del disinteresse alle istituzioni a certi progetti, a certe possibilità che Ischia sta perdendo. Ischia è raccontata dai tre protagonisti e molto diversa oggi. Cosa cambieresti dell'isola? Allora cambiare, io ritengo che non bisogna cambiare, bisogna conservare, preservare e il castello per fortuna appunto ha avuto la possibilità di essere preservato. Quindi in questo è, come dire, è simbolo di quello che secondo me può essere un cambiamento felice, un cambiamento che comunque mantenga le proprie radici e ne faccia comunque un contestamento per le nuove generazioni. Anche perché il Covid, almeno personalmente, è stato anche quello un po' lo slancio che mi ha portato a pensare questo tipo di iniziativa. Deve essere, perlomeno spero sia stato per tutti, la possibilità anche un attimo di guardarsi dentro e di capire se il capitalismo, quindi se questa struttura economica che oramai ha pervaso, ha invaso ogni aspetto della nostra vita, sia ancora una strada percorribile, sia ancora una strada funzionale. Noi crediamo invece che bisogna ritornare anche un po' al ritmo lento che era quello del passato, soprattutto su un territorio come quello di un'isola, di Ischia, il traffico, le auto dovrebbero essere eliminate ed è un tema che per fortuna siamo riusciti anche in parte a toccare.